1941. Seconda guerra mondiale. Anche Italia e Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti. 1994. Yeltsin invia 40.000 soldati nella Repubblica Cecena per impedirne la secessione. 1909. Guglielmo Marconi insignito del premio Nobel per la fisica. Commenta il fatto del giorno Emanuele Dessy, direttore dell'Unione Sarda. 22 anni fa in Giappone il protocollo di Kyoto, pietra miliare per il futuro del nostro pianeta.